Buon giovedì 29 aprile. Come ogni giovedì, oggi alle 18 e 30, ci sarà la lezione della scuola primaria, momento di riflessione, di approfondimento di tematiche sociali, culturali, economiche e anche sanitarie, all'insegna della spiritualità antropologica, dall'ecologia sociale che ci orienta verso un percorso esistenziale di fronte al disagio vissuto costituito dalla disponibilità di essere ricercatori di verità e di soluzioni anche concrete, anche se provvisorie, ma concretamente radicate nella dimensione del bene comune. Quando ci troviamo di fronte a una difficoltà insormontabile, quando l'orizzonte del futuro è segnata da nubi minacciose, allora è giunto il tempo di fermarsi, di meditare profondamente su ciò che sta accadendo, di mettere un po' insieme i pezzi, di non lasciare che gli eventi traumatici vengano estrapolati ed isolati. Mettiamoli insieme e consideriamoli tracce feconde da ascoltare, anche se sembrano insensate. E uno dei punti fondamentali del nostro tempo riguarda appunto questa difficoltà che si ha nei confronti del concetto del lavoro. Tra qualche giorno, sabato, vivremo la festa del primo maggio. Prepariamoci ad accoglierla non come un fatto puramente sindacale e politico, ma come una dimensione dell'esistenza umana che ha radici molto profonde. Nel seminario di domenica scorsa, dal titolo Eros, lacrime e rose, abbiamo iniziato ad approfondire la dimensione di Eros, che rappresenta un tratto distintivo dell'homo sapiens, cioè della nostra consapevolezza nei confronti della sessualità. Come ci ricorda Battaglia, saggista, filosofo del secolo scorso, l'aspetto evolutivo dell'essere umano si concentra su tre aspetti sostanzialmente. Quello dell'erotismo, cioè del mondo di Eros, dell'amore passionale, che è legato naturalmente all'intreccio tra piacere e sofferenza. E l'altro aspetto è quello del lavoro, cioè gli esseri umani a un certo punto hanno iniziato, nel pieno della propria consapevolezza, a lavorare. E il terzo aspetto è quello relativo al culto dei morti, al rapporto che la nostra coscienza evoluta ha con il mistero della morte, che richiede naturalmente un insieme complesso di ritualità, che in qualche modo dia senso a ciò che sembra non avere alcun senso, perché ci troviamo di fronte alla vita impegnati, operosi, però nella piena consapevolezza di una fragilità che a un certo punto avrà fine. Questo ci potrebbe portare a una forma di nichilismo, di chiederci inevitabilmente, ma che senso ha tutto questo? Lavoriamo, fatichiamo, a volte risparmiamo, costruiamo case, costruiamo laddove sia possibile anche delle eredità da lasciare alle generazioni future, ma attenzione perché spesso quelle eredità sono il risultato di una operosità che non lascia solo delle eredità da spartire, ma lascia anche dei debiti nei confronti della nostra terra, nel senso che la produzione che crea profitto e denaro lascia un debito colossale alle generazioni che verranno, che potremmo anche confortare col fatto che lasciamo loro qualcosa, è molto usuale nelle famiglie, nei limiti del possibile, pensare al futuro delle generazioni che verranno, ai propri figli, ma gli lascerò qualcosa in eredità, non so se è possibile naturalmente, ho un pezzo di casa, una casa, secondo delle disponibilità economiche, ma questo inevitabilmente ci interroga su quale sia il nostro rapporto con il lavoro, che cosa significa per noi lavoro? È qualcosa che riguarda la nostra capacità produttiva, è quella produttività che richiede la nostra operosità, quale fine ha? Se il fine ultimo fosse il procacciamento di denaro attraverso la stimolazione di una antropologia del consumo, che inevitabilmente genera a sua volta, in nome del profitto, anche un'economia dello scarto, nel senso che alcune persone, sempre di più, grazie anche alle automazioni, alla robotica, alla ricerca, sempre più raffinata della tecnologia, ebbene tutto questo renderà inutile, sempre più inutile la presenza dell'operosità umana. Questo genera un grande profitto, ma genera anche una grande dimensione dello scarto, rispetto al quale gli esseri umani sono quasi costretti ad abdicare a uno dei punti essenziali della propria esistenza, ed è interessante perché questo abbandono di uno dei punti essenziali che è l'operosità e il lavoro, coincide con l'offuscamento delle altre due dimensioni, cioè quello della dimensione erotica e della dimensione che riguarda la morte, che viene occultata, rimossa, come se fosse un difetto e non un tratto evolutivo dell'esistenza. Non riusciamo a vivere la morte nell'idea di appartenere una vita che è prima di noi e sarà dopo di noi. Questo è molto difficile, ma stiamo sulla questione del lavoro. Incominciamo una riflessione. Quale lavoro? Chiaro che nella riflessione di questa mattina si può esaurire una domanda così complessa, e neppure ovviamente nella lezione di oggi, ma iniziamo a ripensare al lavoro, sottraendolo alla economia dello scarto, che implica una dimensione di alienazione che ci vuole prima di tutto consumatori. Quando noi consumiamo il nostro tempo in una social network che più noi siamo presenti, più si arricchisce, non ci rendiamo conto di essere dei lavoratori non salariati, di un sistema di profitto che ci vuole consumatori. C'è quasi una coincidenza tra lavoratore tra lavoratore e consumatore. Vado a lavorare per procacciarmi il denaro che mi permetta di consumare, come se ci fosse una coincidenza tra disponibilità del denaro, consumo e piacere e gratificazione nella vita. Allora il lavoro diventa semplicemente ripetitivo, non è legato a una dimensione antropologica comunitaria nel quale il lavorare assume il preciso significato di concorrere, a seconda dei propri talenti da coltivare naturalmente, cooperare al bene comune. Ognuno farà quello che sa fare, che può fare e le sue necessità vitali, esistenziali, saranno soddisfatte dalla disponibilità delle risorse messe messe in comune. È una visione antropologica autenticamente ecologica, dal punto di vista umano che è consapevole di questa realtà. Pertanto iniziamo una riflessione relativa a come noi possiamo oggi dare una svolta ad un punto di crisi che si è espresso in pienezza già alcuni anni fa, penso alla crisi economica del 2008 che non ha cessato di esistere e che è fondata appunto su questa dimensione del lavoro finalizzato alla produzione di denaro, fine a se stesso e che trae origine dall'antropologia del consumo e dello scarto. È inquietante perché questi elementi dovrebbero essere fondativi di ogni valutazione diagnostica di uno stato mentale caratterizzato da grande sofferenza, una sofferenza che può portare alla rinuncia, alla chiusura. Pensate a quelli che si chiudono in camera al buio e non vogliono più fare niente perché evidentemente considerano del tutto inutile la loro presenza. Vogliamo correggerli o vogliamo correggere il mondo che sta fuori delle loro camere chiuse con le finestre sbarrate e rassicurarli che c'è posto anche per loro e forse noi dobbiamo ringraziarli perché ci mettono di fronte a una colossale contraddizione che continua a insistere su meritocrazia, competizione, arrivismo, carrierismo, fine a se stesso, nutrito semplicemente dall'egocentrismo. E allora coloro i quali sembrano devianti. Inconsapevolmente ci stanno ponendo delle domande alle quali non sappiamo dare delle risposte. Ci nascondiamo dietro alla nostra conservazione o al nostro moralismo giudicante nei confronti di coloro che vivono direttamente l'esperienza dello scarto non voluto e che non sanno neppure essere rivoltosi rispetto a questo modello esistenziale. E per cui siamo chiamati a una rivolta autentica ponendoci delle domande esistenziali proprio in questi giorni nei quali cominciamo a riflettere alla dimensione del lavoro che riguarda la politica ovviamente ma in senso molto alto che riguarda l'amministrazione del bene comune, che riguarda l'organizzazione della nostra vita sociale. Non anche in questo caso un neocarrierismo politico che porti alla dimensione del potere. ognuno di noi è chiamato a poter fare in una dimensione evolutiva a partire appunto da quegli scarti che vanno ascoltati e che a loro volta devono trovare un luogo per poter dire ascoltando il loro stesso dolore, la loro stessa sofferenza. Attraverso l'ascolto si potrebbero creare le condizioni reali di un cambiamento di rotta che oggi è quanto mai necessario per cui intanto oggi pomeriggio alle 18 e 30 o in sede o online per iniziare a riflettere in occasione di questa circostanza legata un pochino anche al primo maggio e anche di apertura nel mese di maggio di una riflessione che svilupperemo nel corso di un mese relativa al valore politico della sobrietà ma una politica che guarda verso una nuova antropospiritualità, nuova, inedita, arricchita da un'antica sapienza e a una attualità dell'antico, del pensiero autentico, umano, che ha sempre cercato di destreggiarsi per superare le tentazioni dell'ecocentrismo e coltivare la dimensione umana di un lavoro dell'eros e del culto dei morti che è fondato sulla dimensione comunitaria. Buona giornata a tutti.